Dal 4 aprile all'11 giugno Napoli ospita la rassegna Comicon Off e torna protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop con un programma di eventi, mostre, proiezioni e spettacoli in vari luoghi della città. Il programma è molto ricco, ci sono circa 17 eventi in altrettante location della città, si va dal museo di Capodimonte agli istituti di cultura, a Focus, all'Accademia di Belle Arti, con una logica diversa che è anche giustamente un po' diversa dal Comicon generale che è la più grande fiera probabilmente del fumetto, qui noi tentiamo l'operazione di dare vita a un vero e proprio evento culturale perché il fumetto si rapporta ad altre esperienze, ad altre arti, alla musica, all'audiovisivo, al sociale. L'edizione 2024, promossa e finanziata dal Comune, si svolgerà in diversi spazi culturali con la partecipazione di fumettisti, illustratori, scrittori, attori e musicisti per offrire al pubblico di napoletani e turisti esperienze creative e di intrattenimento e tante novità editoriali. Abbiamo Dario Sansone con la musica, ma abbiamo anche l'audiovisivo con il grande omaggio a Stan Lee e poi abbiamo anche l'accordo colpa per sera di Topolinia, quindi insomma spaziamo su tanti generi, proprio secondo quelle che sono le politiche del sindaco di Napoli per la cultura. Tra i vari siti la rassegna approda per la prima volta anche a Palazzo Cavalcanti e porterà in città artisti italiani e stranieri. Potete vedere alcune delle mostre, la prima sarà inaugurata il 4 aprile all'Istituto Francese, l'Istituto Grenoble con Marc-Antoine Mathieu. Si continua a maggio, al 7 maggio con Lina Erentrout, che è un'importante autrice tedesca, la quale invece realizzerà una lettura performativa. Questo diciamo per citare solo alcuni dei tantissimi eventi. Sono tutti eventi gratuiti, quindi tutti sono i benvenuti e sarà appunto tutto e fruibile, insomma ogni informazione, attraverso i canali Comic-Con.